Presentata oggi a Riva del Garda la trentesima edizione della Parata della Bandiera, l'importante manifestazione nazionale che vede sfidarsi i migliori gruppi di sbandieratori italiani in gara per aggiudicarsi l'ambito premio nelle diverse categorie. Per la prima volta il concorso si svolge in regione, da venerdì prossimo fino a domenica, in quello che vuole essere anche un importante momento di folklore e spettacolo che animerà a Piazza della Costituzione quale luogo delle gare, ma anche le vie della città con la sfilata di domenica mattina alle ore 9. Le evoluzioni degli sbandieratori hanno sempre suscitato interesse per la loro abilità e destrezza nel far roteare e far volare fino a 10 metri di altezza il simbolo delle loro città. Una manifestazione che porterà a Riva del Garda centinaia di esperti per delle esibizioni che si preannunceranno spettacolari. La soddisfazione di aver portato questa importante manifestazione a Riva del Garda? Sì, diciamo che è stato un bel impegno che ci ha portato avanti nell'arco dell'ultimo anno, ovviamente anche facendoci carico di parecchie cose che ovviamente per noi erano impensabili all'inizio. Come è nata l'idea? Ma l'idea è nata un po' così da alcuni anni, da alcuni anni volevamo vedere se riuscivamo a portare un po' un evento un po' particolare perché, come diceva prima il Presidente Gastoldi, per la prima volta si rivolge nella nostra realtà regionale. Sappiamo che qua non è un settore molto partecipato, non è, tra virgolette, sentito e ovviamente potrebbe essere una cosa che potrebbe anche un po' riaccendere quelle che erano le cose che si realizzavano a Riva tantissimi anni fa. Quindi la prossima settimana Riva del Garda sarà animata da colori e allegria? Certo, noi speriamo nel tempo perché quello è predominante. Ovviamente stiamo lavorando al massimo per rendere l'evento il più importante possibile. I momenti più importanti della tre giorni? Io, a dire la verità, non sono un esperto in materia, anche se vengo da un paese, tra virgolette, di sbandieratori. Difatti il gruppo più numeroso sarà la compagnia del mio paese. È gallicano in provincia di Lucca. Devo dire che tutti i momenti saranno importanti. Ovviamente ritengo che l'esibizione della grande squadra e che sarà la domenica e l'esibizione della squadra nazionale che si esibirà per la prima volta in un ambito della parata e in più sempre la domenica e poi ovviamente il corteo per le vie della città. Arrivano le sbandieratori a Riva del Garda per una manifestazione che si preannuncia molto importante. Sì, siamo alla 36esima edizione della parata nazionale della bandiera. Per la prima volta si svolge nella vostra ragione, nel Trentino, e quindi siamo molto orgogliosi di questo successo. 36 anni di bandiere, un evento che coinvolgerà circa 600 persone, 20 gruppi da tutta Italia, dove si svolgerà in tre giorni in cinque gare diverse, dalla gara di singolo tradizionale, gara di coppia tradizionale, gara di piccola squadra, grande squadra e a solo musici. Voglio ringraziare soprattutto il comitato Befana Subacqua perché ha collaborato al 100% e è stato promotore dell'organizzazione di questa parata e quindi veramente grazie di cuore perché abbiamo condiviso in un anno veramente tante problematiche sia tecniche ma anche progetti e penso che sia un successo già l'essere arrivati oggi a dire che ce l'abbiamo fatta. La tradizione degli sbandieratori in Italia è una tradizione che si porta avanti da molti anni, da dove nasce? Beh, la tradizione nasce un po' dalla storia, quindi in realtà poi ogni città, ogni luogo, ogni borgo di tutta Italia ha la propria storia, la propria tradizione, quindi gli sbandieratori sono un po' il folklore che nasce dal Medioevo che poi ogni città ha fatto suo in base alla sua storia, alla sua realtà. Quanti gruppi parteciperanno? Parteciperanno quest'anno esattamente 18 gruppi che arrivano quindi da tutta Italia, il più lontano arriva da Lucera, in provvigia di Foggia, affinché fino a Umbria, Toscana, coinvolge Lombardia, Emilia Romagna, Piamonte, quindi diverse regioni dell'Italia saranno coinvolte in questo evento nazionale.